. Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema, a cura di Film is Now! History Channel produrrà una serie tv intitolata The Kennedys, dedicata ai membri della famiglia presidenziale, ovvero John, la moglie Jackie, il fratello Robert e il padre Joe. Così, a distanza di qualche mese dall'annuncio di una pellicola su Jackie Kennedy Onassis, che verrà interpretata da Rachel Weisz, anche la televisione decide di raccontare il mito di questa famiglia. La serie sarà diretta da John Kassar e nelle vesti della bella Jackie ci sarà Katie Holmes. Dopo A Serious Man, uscito l'anno scorso, i fratelli Coen sono attualmente impegnati nella stesura del remake di Gambit, pellicola roccambolesca realizzata da Ronald Lame nel 1966. La regia verrà fidata a Doug Lehman, specializzato nel genere action-comedy, avendo firmato Mr. & Mrs. Smith e The Burn Identity. Il regista di Star Trek, J.J. Abrams, realizzerà un film interamente dedicato a Steven Spielberg, avvalendosi anche della sua autorevole collaborazione. La pellicola sarà un contributo alla carriera storica di Spielberg e in particolare alle produzioni che hanno segnato la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Per intenderci, pellicole dal calibro di incontri ravvicinati del terzo tipo, Poltergeist ed E.T. E per oggi è tutto, vediamo insieme il trailer! La moglie è iniziata, un' Borgh, Borgh Tu sei che tu hai dalle a te? Non è vero Non mi ha detto che tu hai dalle a te Opa! 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 C'è chi c'è? Opa! Sì, Sì, Sì Non c'è un po' di farlo. Ma chi è qui? Non si capiscono che il ragazzo non c'è il ragazzo. Se tu pensi che il ragazzo è il ragazzo, cioè il ragazzo che il ragazzo è il ragazzo. Non ci fai capire? Grazie a tutti. Grazie a tutti.